Il Dio di Last Land è più che mai adirato! Non ci credo. Quest'uomo sarebbe... Sarebbe il successore della Divina Scuola di Okuto. È Kenshiro! Premere il punto segreto nel centro della tua fronte. Il Keira Kuhiko. Tu sei già morto. Dimmi qualcosa di Last Land. La città fortezza. Acqua pulita che non ha subito contaminazioni sgorga solo lì. Però... Quel Sanga se ne è totalmente impadronito. Sanga? Il dittatore di Last Land. Doha stringe nelle sue mani le anime del popolo. Tuttavia, ciò non è sufficiente. Io ho bisogno del miracolo di una nuova divinità. Sara, è per questo che ho bisogno di te. Aspettami, Sanga! Ti getterò nel luogo in cui sprafondano i vili. Non esiste alcun Dio che sia disposto a salvare te! Così sarebbe quella Last Land. Sanga, io prenderò tutto quello che appartiene a te. Sei stato tu a costruire questo immenso castello. Quindi sei tu il più degno di riposare qui. Ormai i bacilli del tetano allo stadio avanzato lo stanno divorando. Qui non c'è del siero immunizzante. Ne avevo nell'ambulatorio del villaggio di libertà. Allora andrò io. Che misera fine. Ecco colui che desiderava diventare un re. Muori di nuovo! Se desidero qualcosa, me ne impossesso con la forza dei miei pugni. Come si chiama la vostra tecnica? La nostra è la tecnica del Fortale del Nord. Cosa? Non lo vedo. La tecnica del Portale del Nord è sì tenuta segreta. Ma un individuo ha ucciso il proprio maestro ed è fuggito violando la legge. Ora è a Last Land. Da oggi sarò io a dominare questa città. Tutto ciò che ha costruito Sangha appartiene solo a me. Intendi ancora giocare con le fiamme di questo inferno? Voglio che si uccidano tra loro. È proprio ciò che mi occorre per ripulire il regno che è stato creato da Sangha. Sembra proprio che tu utilizzi il mio stesso campo. La Divina Scuola di Okuto prevede l'Ishisoden. Anche se il tuo campo è una disciplina derivata, devo comunque sigillarlo. È il compito dell'erede. La Divina Scuola di Okuto prevede l'Ishisoden.